Devo caridere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora sono convinto a no che il mondo continua a esserci. C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci ammettino chi siamo. Io non sono diverso. Allora, a che punto ero? Allora.